Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi Viola di oggi. Pantaleo Corvino l'ha spuntata per Teio e questa è una bella notizia perché la Fiorentina ad un certo punto ha rischiato davvero di perderlo. Sicuramente ha fatto bene a non riscattare il giocatore, la cifra era troppo elevata e Corvino ha fatto un lavoro di diplomazia in queste settimane, ha parlato con l'entourage del giocatore, ha parlato con il Barcellona, sicuramente l'ok di Teio, la voglia di Teio di rimanere e di tornare alla Fiorentina è stata fondamentale, questo è stato un passaggio importantissimo. Teio torna in prestito, Pantaleo Corvino sta parlando del diritto di riscatto, potrebbe esserci anche un obbligo di riscatto ad una cifra sicuramente più bassa, staremo a vedere cosa accadrà, l'unica cosa certa è che il prossimo anno Teio vestirà la maglia della Fiorentina e sulla destra ha dimostrato di essere un calciatore importante che può crescere ancora, che può avere ancora maggiore continuità ma che nel breve, nella corsa ma anche nella forza con cui attacca la porta avversaria può essere decisivo e quindi Pantaleo Corvino e la Fiorentina festeggiano questo ritorno, lo festeggia anche Sosa che Teio lo ha voluto, che su Teio ha puntato molto anche lo scorso anno e a destra la Fiorentina in questo momento è sicuramente coperta con Bernardeschi che avrà un altro ruolo, giocherà a sinistra, potrà giocare un po' dietro le punte, adesso si penserà soprattutto a lui e alle soluzioni tattiche. A lunedì con i 101 secondi Violo, un saluto da Marco Dell'Olio.